Musica 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 Non, 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 non Ecco la mia pensione a la mia rupulante. E se senti qui, a cui io mi chiede, ho detto. E se senti qui io mi chiede, l'Allenca, l'Africa. E se senti qui, avevo una russie, ho detto che avevo una riuscita. Noi, 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 il non velo. Quindi stai todo il lavoro con l'hospita di dei monti. Paese, miceria che ha distinto le buono con Vladimir Putin? dire que la poutine della saryeah corret una mamonica che presenza y amine et'arrattamento e posso dare Substituzione l'imm resistor ma c'è un nationalista ma c'è un correcuitante ma c'è un sicuritante ma c'è un minore ma c'è un po' di saki ma c'è un po' di gammé ma c'è un po' di gammé ma c'è un po' di gammé è maloreux è che oggi la riferia di Michonne ma c'è un po' di gammé è maloreux perché la mia vita star?? Siessis a un pic ma c'è un po' di gammé ma c'è un piuot il va arriver quel c'è un po' di gammé ma c'è un po' di gammé il va giocare ma c'è un po' di gammé il va s'inst seas ma c'è un po' di gammé Se stanno tricterò in America, il nostro presidente è stato attraversato alla Storza dei Ministri della Nazionna dell'Africa. Ora, il nostro presidente è stato fatto che i abitanti, i nostri amici, i nostri amici, i nostri amici, i nostri amici. Non ci siamo tutti i nostri amici. Prima di questa cosa, abbiamo avuto la progetto dei budget, Quindi il viaggio nella parlementazione, ho una ragazza della cittiva durante il militare per la miniatura di Stia. Il viaggio daoscenza in stia a tutta a uscire in Kenya. Poi c'est sempre il pero' per arrivato in Italia. Ma cosa non c'è questo cerco? Però però questo cerco dal senso che la miniatura abbiamo portato fino a un'opera di G观ote dove c'è Kenia. ma ma Pari al Presidente a una anno e demie. Ah, sì. Pona niente, il nostro primo partito. C'è un mal fatto. Il nostro paese è un malunga per il popolo. C'è chiama. Par contre, il nostro paese è un paese. Il nostro paese è un soldato. Il nostro paese è un paese. Il nostro paese è un paese. Ora, chiama è un paese è un paese. Inizia Ora che ci sono i soldi Non ci sono i soldi Ma cosa è che ci sono Ma cegna è un discurso Un diputato Ma cegna è un discurso Ma cegna è un discurso Perchè C'è dire L'armée condolese accompagnata Il Chepena est Il Chepena Il Chepena Il Chepena La quena Rwanda La quena La quena Cegna Sa la quena Le problema Il Chepena la mia cdc la mia cdc partono μέra mia cdc ma casa di cdc la cdc quindi ma camminare E poi c'è un po' di più in Africa e anche ieri qui ci sono le settimane che aveva rincazione cambiare la formazione cambiare il stranque 100 militari che hanno messo ieri cambiare il governo in un anno 4 volte ma anche il nostro saluto la sicurezza è assurata quando i soldi di Fati ha già rinforcato il Congo quando i soldi di Kigali non si è il contatto con tezani ma lo più come ha rinforciato è-dia che i soldi di Kigali e che i soldi di Kigali i soldi di Kigali e che i soldi di Kigali i soldi di Kigali e che i soldi di Kigali e che i soldi i soldi di Kigali e che gli soldi di Pan20 e che i soldi di Qigali e che i soldi di Kigali e che i beanschi avanti per bronce delle carune HHH Siamo arrivati a proposito il presidente Musso Sourou! Il grande, è venuto in attrazione. Perché'sa tanta gente che c'è la bra che fa a riguardo. Il presidente in Chukoya ha fatto il diritto e mandi march. Allora... Mi dottia mi dottia a dire questo, che c'era la mia squadra. Non c'è l'armamento, nessuno ha visto l'armamento arrivare a questo livello. Ma come l'armamento, io posso dire l'Africa mobile? Noi, noi abbiamo la mia France 24 per la prima volta. Noi, noi abbiamo la mia presidenza. Ah, sì? Noi, noi abbiamo la mia France 24, noi abbiamo la mia presidenza. Noi, noi abbiamo la mia presidenza, ma è la mia presidenza. Ma noi abbiamo la mia presidenza che non vogliono vivere un mingo, perché non c'è l'armamento che non c'è l'armamento. Ma non c'è l'armamento? Non c'è l'armamento? Quando dicevano che il polkadame è un mal che ruina l'Africa, non c'è l'armamento. Non c'è l'armamento, non c'è l'armamento, non c'è l'armamento in l'Africa del Sud. Ma cosa significa que io non ricorremo, Non, 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 non. e se si è un discrepo, non c'è un discrepo. Ma cosa è un discrepo? Ma cosa è un discrepo? Ma cosa è un discrepo? Fatih Azalaki è un discrepo. In questa ceremonia, il nostro ceremo, il nostro ceremo. Perché ho detto un discrepo? Particolo! Fatih, l'ambassazione, il nostro accuello, ci sono un discrepo, ma cosa è un discrepo? Cosa, l'ambassazione dell'Africa del sud del Congo. Ma come questa, come il giro il chica, come il suo appare il l'ambassazione dell'Africa del sud del Congo? Non, come il suo appare il l'ambassazione dell'Africa del Congo? Ma come il suo appare il lo stesso chica? 1000 rappresentazioni delle persone che sono speciale. Appare il, lei, lei, lei! E lei, lei è uscita di situazione, e lei è uscita, ma è un discrepo. C'est-à-dire un progetto del ramardo, che ha detto fatto, ha capato l'invitation allò dire, ma pardon che mi piace a tutti i tuoi fai che sei che te fai se wirko quando io non mi credo che non vi io non vi tuoi la gente con la gente? mi è mi è te hai se il? mi hai mi hai mi hai mi hai io io mia io 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 ma tuoi ho ha Sì 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 noi abbiamo un'appel in line come la danga baza come la danga 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 la Russia vuole fare dell'Africa un continent totalmente indipendente la Russia ha detto i fatti i fatti i fatti i fatti e www.merc.info Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Nuo qui sono già attrezzato! Nuo qui sono attraversati la regione 5 Qu'Ei Pag так è alo che ti entico Qu'è la mia coppia che è stata all'arroporta? È in mergendio! Ma non la mia... Ma non si sta accortando oggi? Adesso il dice che ci si! Non lo ne vieni. Non lo vieni! Non lo vieni. Quindi come... Mi sono di corso le corso! il russi cor a cor, l'orè cor a cor, l'Africa del Sud cor a cor, l'Africa del Sud cor a cor. Ora, la Francia è stata fatta, la l'Africa è stata fatta, l'Africa è stata fatta, l'Oribe è stata fatta, l'Africa del Sud, l'Africa del Sud. Ma qual è la relazione tra il presidente del Sud e il presidente del Correo? Ma l'OMS è una organizzazione per office, scherzyò che sia il mio partner. La panafricanese è la mia fama dell'orata, il tiere per un'Africa debuta. C'è quello che ha fatto che, qui es a Rwanda, si si chiedono di cercare di risposta. Ma pena che ora vi sposte la question per il erfahren. La mia question è che è la mia question, non? E ciò la mia question è stata fatta, la televisione è a Rwanda. Il fatto il plateau Il fatto il renforcio la sicurità Con gli estrani E l'attaque contro le Rwanda È commisato Rwanda o Rwanda Per questo progetto Per cosa è preoccupato Il mio collega Il fatto che il mio collega Il mio collega per la sicurità Il mio collega 3 o 4 persone Quindi l'amplié Il mio collega per la selezione Il suo risp тоже N��터 Buongiorno Il biggest Il afectava di r� Il drorecto E poi Il stupore Il thanech Il 보여 solo Il 반el Le pote Het Un profunda Un fold Ilannée Il me rev Events ma te zappoi wana conclizzo te lo kani ma te zappoi faccia ebis kibino a partir de gomma toko ki kotouche ki ki kari faccia lo baki a kolala li sussu nana kuna ye faccia lo baki kagama sa kanana batu moussusu ok ma faccia de tonpe mo daterliaba kongole mo mogo ya encemble ebacate sanini semaine prochaine biro ya sinai kotakate sanini et poti a mini tokou verrenais en place tout est athée les alla classe tadirbain esti sonne se vendit oui ya de signes qui ne trouvent pas ce roi d'aqué vous voyez Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. sarebbe la mia opposizione, mi ai cercato a le porti parol Sama Futa Masa, in realtà mia mia moglie, non ma mia moglie, con questa cosa mi ha detto che nella maggioranza la maggioranza è la posizione della parola, non il Student è tutto perdu. Non ci sono qualcuno che riprende, o però si non non mi ha fatto quanto fa lo prospettorale, non c'è정a che finire e perché rimuovere il Parlamento. Il l'unico raffetto posto ora. Ma come si aveva utilizzato il modo di fare un mese politica, no c'è chiama lì, non c'è chiama lì, ma non c'è chiama lì, ho le rete, non c'è chiama lì, ho le rete. Oh, la televisione c'è chi? Ho il troppo perde? Epegna. Non, non c'è chiama lì, pègna. Ma c'è chiama lì? Kamer Ferdi mì? Ha il bambino lì, ho le rete. Si chiede il gallo, si chiede il gallo, si chiede il gallo. Il faille me colloquier, a li accarme le signore, il accepte questa scuola, non s'organizzare. Quindi come il ha nominato la letto, io posso postimer, ma non questo è ciò che mi spostiere, non mi ha posto dei porti paroletari, che è il pacato, mentre l'opposizione è stata fatta, Quindi quando il miro uscita, Fahul è in attraire di giocare il gioco e se si quita perché è stato un pangzi bango Ma un pangzi bango per quel pite? E lo che si sta inizia a noi Le loro rinforzamento ma sicurezza e il suo chef dell'Etat bisogna da noi Forse non c'è tutta la mia unione sacrée C'è questo bango? Non! Il l'unico a uscito Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ma c'est la guerra! Non c'est la guerra! La polizia, la polizia e la pena, Si la guerra, la guerra, la guerra, la guerra. Traz la guerra, 3 uniti, in un po' c'è un po' c'è la patria mixte, in un po' c'è un po' c'è un po' c'è Il y a 2 casi 4, la guerra, la guerra, il y a un po' c'è un po' c'è un po' c'è un po' Non, 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 non. Ma non ho visto che abbiamo visto, ma non ho visto, ma non ho visto che nessuno ha visto, ne ha visto. Fui nel 2019. Ma non ho visto che abbiamo visto, ma non ho visto. Abbiamo visto che ci sono 36 anni. Qui ci sono? Qui ci sono? Qui ci sono? Qui ci sono? Che ci sono? Non, non è così. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. anche se sono statuti per gli italiani perché magari noi siamo statuti per la squadra e anche in Russia noi abbiamo statuto di attacca le Rus abbiamo statuto per la squadra con questi esempi nel Mexico ci siamo statuti in Italia sono statuti un gruppo americani qui hanno un gruppo militare ma loro sono civili Non, non, non. noti potente adesso faccio trasferi passacchi passacchi mancuno accanto portate portate Grazie a tutti 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 Grazie a tutti